Bella ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale dopo un po' di attesa visto che ho ancora un po' di influenza anzi scusatemi per la voce perché effettivamente si sentirà volevo ricominciare a fare video abbastanza con calma quindi per adesso voglio soltanto farvi vedere una cosa che mi è successa in questi giorni cioè il fatto della Main Street News quindi c'è una nuova sponsorizzazione subito dopo l'ultimo aggiornamento infatti ho riacceso il gioco ed è arrivato un messaggio sul telefono dove appunto dovete assolutamente accettare la proposta di Main Street intanto adesso vediamo la solita situazione buffa guardiamocela tutta e riprendiamo a parlare un solletichino alle papille gustative ragazzi ma stiamo scherzando ma veramente stiamo parlando di sta roba comunque vabbè devo dire che è veramente una situazione devastante averla in casa però almeno porta un po' di simpatia comunque vi stavo dicendo una volta che accettate la proposta di Main Street vi recapiteranno a casa una nuova maglietta questa maglietta credo che sia abbastanza importante adesso io come al solito ragazzi non vado a leggere su internet faccio le cose molto tranquillamente senza prepararmi nulla quindi vi spiego quello che mi è successo e questa appunto maglietta di Main Street News una volta indossata molto probabilmente sblocca qualcosa cosa? adesso lo andremo a vedere però guardatela qui praticamente è questa la maglietta secondo me dà anche dei VC se non mi ricordo male basta indossarla quando si entra all'interno dei negozi comunque basta tenerla indossata e in teoria vi dà anche dei VC pochissimi ma ve li dà ecco qua intanto il mio campo con bellissimo dei Detroit Pistons con il tabellone dei Bulls il ferro verde ragazzi è scandaloso però vabbè fa niente e le pareti sul Fuchsia cioè veramente potevo scegliere una cozzaia di colori peggiore l'unica cosa bella secondo me è il campo perché è veramente stupendo perché i vecchi stemmi delle squadre erano spettacolari ragazzi comunque una volta indossata la maglietta riprendiamoci un attimo la situazione una volta indossata la maglietta torniamo su in strada e dove andiamo? proprio nel vialone chiamiamolo principale dove c'è Swaggs, dove ci sono i tatuaggi dove c'è la barbozza dove c'è tutto quello che appunto cercate la Shukai Zone andando sempre dritto guardate c'è quella specie di edicola che finora era stata inaccessibile almeno per me per quello vi sto dicendo questa è una cosa che io non ho preparato una cosa che vi sto dicendo che mi è accaduta in questi giorni e infatti ho sbloccato Main Street News con l'acquisto della maglietta e nell'accettando lo sponsor quindi ecco qui Main Street News se ci parlate una volta ragazzi vi spiega soltanto che cos'è la presentazione vedete parte il dialogo ascoltiamolo e vediamo cosa succede Buona cosa è la vostra grazie 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 e come un attenzione di questo apprezzamento io volto piacere è piacere la selezione molto più esclusiva di non-newsware qui potre oh per real? grazie ovviamente se quali dopo venite ci mi la città e la presentazione ma ci è non ho Come potete vedere è finito qui, quindi è soltanto una sorta di presentazione, quindi dobbiamo tornarci subito. Il problema di tornarci subito è che come potete vedere non succede nulla neanche dopo il caricamento, vedete che c'è la palla in basso a destra che sta praticamente dimostrandoci che c'è un caricamento, ma quel caricamento non ci porta a nulla, vedete? L'unica cosa che è da fare è arrivarci un po' da soli e schiacciare il triangolo, infatti come potete vedere qui ho aspettato fino a che poi non ho schiacciato il cerchio e ho detto ma ragazzi ma che cacchio bisogna fare non c'è scritto niente, ci riprovo, ci riprovo, aspetto che appunto la palla faccia il caricamento e poi schiaccio il triangolo. E che ne sapevo io, non c'è scritto da nessuna parte di premere il triangolo, scusate, cioè effettivamente mi è sembrato un po' strano che la schermata si stoppassa in questo modo come state vedendo adesso, poi schiacciando il triangolo finalmente sblocco i potenziamenti che erano presenti anche l'anno scorso. Ecco adesso infatti come potete vedere a schermo vi faccio vedere un pochino tutti i vari potenziamenti, ce ne sono alcuni veramente importanti, il palleggio, le stoppate, cioè ragazzi potete assolutamente aumentare le vostre caratteristiche in maniera molto facile. Io adesso vi faccio vedere appunto che acquisto tiro in sospensione, facilissimo, costa soltanto 200, poi si può prendere anche per 10 partite, costa ovviamente 2000, e si sblocca anche il trofeo, una marcia in più proprio per essersi potenziati. Quindi ragazzi c'è questa possibilità importante anche di sbloccare un trofeo, non vi scordate questa cosa e cercate di accettare appunto la sponsorizzazione di Main Street News. Come potete vedere potete vederlo anche nel menu delle abilità tranquillamente come al solito, come fate a vedere tutto quanto solitamente da appunto il menu con il triangolo. Io ovviamente sono su PlayStation 4, ecco qui basta andare, quindi basterà andare appunto a vedere nel menu. Questo episodio finisce qui, ci vediamo nel prossimo video. Bala! Ciao!